Abbiamo fatto una fotografia, per quanto dettagliata purtroppo ridotta, perché cento storie sono poche, di quello che è la robotica in Italia in questo momento. È uno dei paesi più avanti nella robotica nel mondo. C'è un'incredibile capacità di creazione, innovazione e sviluppo di questo mondo incredibilmente vario che tocca non soltanto l'industria, ma la vita di tutti i giorni, la medicina soprattutto. E quindi in tutti gli aspetti della nostra vita, anche noi ne siamo coscienti o meno, ci sono già in questo momento applicazioni della robotica. L'Italia è molto avanti, abbiamo fatto questo lavoro insieme con Simbola per dare un contributo e renderci tutti coscienti dell'importanza che ha questo aspetto dell'economia per l'Italia. Grazie